Youtubers e bentornati dal vostro Gatoria Giallo Rosso 94 nel secondo video giornaliero in cui vi parlo di una possibile voce di mercato legata ad un nostro giocatore giallo rosso. In questo video, visto che nel primo video vi ho parlato della possibile partenza di un der nel mercato invernale o d'estivo, volevo parlarvi di una possibile doppia partenza in caso di giallo rossa in prestito però che si potrebbe verificare con molta probabilità nel mercato invernale. Sto parlando del difensore William Biandà e del centrocampista Ante Cioric. Entrambi arrivati più o meno nello stesso periodo, entrambi grandi amici come testimoniano le tante storie su Instagram e tanti post condivisi insieme ed entrambi potrebbero appunto partire nel mercato invernale per, in gergo calcistico, farsi le ossa. Biandà in questo momento sta giocando con la primavera anche se molti non sono contenti diciamo delle sue prestazioni, anche in questo momento, anche con la primavera, appare un pesce fuor d'acqua. Mentre invece Cioric, nonostante un ottimo precampionato con tante amichevoli giocate in maniera positiva, ancora non ha giocato neanche un minuto con la maglia giallo-rossa. Nonostante partite messe in cassaforte come col Frosinone, con il Viktor Rappeltsen e compagnia bella. Capisco che non sia stato utilizzato nel periodo più buio della squadra, però ancora adesso, lo dico di principio, non riesco a capire perché non gli sia dato neanche un minuto, anche se da quello che si sta dicendo nelle ultime ore Di Francesco non lo sta facendo giocare perché ha dei dubbi sul suo aspetto fisico, non tanto tecnico ma prettamente fisico. Ha paura che possa rompersi facilmente, diciamo, e quindi infatti sta proponendo un percorso personalizzato per migliorare sotto questo aspetto, per poter abbinare la buona tecnica che già di base ha, che può ovviamente crescere col tempo, a delle doti fisiche che servono comunque nel calcio per poter giocare bene. Lo stesso Under di cui ho parlato nel primo video è molto forte tecnicamente ma ancora deve crescere per quanto riguarda la stazza fisica, ecco, diciamo così. Cioric, io, come ho detto al momento del suo arrivo, è un giocatore che mi piace molto, un giocatore molto talentuoso, un giocatore che già adesso sembra avere delle ottime qualità e proprio per questo motivo sarei favorevole per una sua partenza in prestito. Consideriamo comunque il fatto che la Roma dovrà giocare tante partite e queste partite sono molto, molto importanti. Per me, se Cioric non ha avuto spazio finora vuol dire che per questa stagione sarà veramente difficile, quindi penso che un prestito potrebbe fargli assolutamente bene per poter crescere con calma e andare in una squadra che gli assicurerà maggior minutaggio e gli permetterà appunto di crescere con più calma e più attenzione. Tenere il giocatore di questo livello e di questo valore tecnico in panchina o a volte anche in tribuna è uno spreco fondamentalmente perché lo demoralizzi, perché il giocatore così pensa che non è adatto a questi livelli quando in realtà per me col tempo lo potrà diventare assolutamente e gli fa perdere l'abitudine col campo, visto che la scorsa stagione era un titolare della Dinamo Zagabria. Quindi io penso che la scelta di mandarlo in prestito per maturare in Serie A però, non in categorie inferiori né tanto meno in campionati inferiori, sarebbe la scelta migliore. Io proverei per un Frosinone, proverei per un Empoli, proverei per un Chievo, squadre che sì, si devono salvare, ma che potrebbero dare spazio a questi giovani talenti. Cioric ha dimostrato di essere un ottimo giocatore e per me, giocando in queste squadre e non andando in giù, diciamo, in categorie inferiori o campionati inferiori, potrebbe rivelarsi fondamentale anche per la salvezza di queste squadre. Parlando invece di Mianda, per me è un giocatore ancora acerbo, ho visto alcune prestazioni, ho visto alcuni errori e per me attualmente non può trovare spazio neanche in Serie A, anche se non sto bocciando completamente, so questo perché è presto, e quindi per lui sarei più favorevole per un prestito magari in Serie B. Si parla di Benevento, si parla di Crotone, comunque le squadre che ultimamente sono scese dalla Serie A alla Serie B e per me questa sarebbe una scelta sicuramente importante, non tanto dal punto di vista del minutaggio, anche se quello è sempre importante, però gli permetterebbe di entrare in un gruppo che gioca comunque quasi nei massimi livelli del campionato italiano, perché per me la Primavera ti dà esperienza ma non ti fa migliorare così tanto sotto il punto di vista tecnico e altro, cioè per me la Primavera serve soprattutto per quelli giovani, giovani veramente. E quindi Biandà, essendo stato preso per poter diventare in futuro un difensore della Roma titolare, comunque della Roma senior, ecco se così possiamo dire, deve crescere con un gruppo di senior, ecco, l'ho detto un po' male, però spero che abbiate capito il senso, quindi io sarei favorevole sia in un caso che nell'altro nel mandarli in prestito gratuito, gratuito nel senso che li mandi e poi ti ritornano dopo sei mesi, purché le squadre che li acquistino, li acquista, questo, oddio mi sono perso, comunque purché le squadre che li prendono li facciano giocare, perché se no non ha senso, cioè a mandarli in prestito per fargli fare panchina anche in squadre minori sarebbe una sciocchezza, quindi io prima di mandare i giocatori via mi assicurerei tramite le squadre che li acquisterebbero che gli potranno dare il giusto minutaggio, per non deprimerli ulteriormente e per non fargli fare panchina anche squadre più deboli tecnicamente. Voi invece cosa fareste? Li mandereste in prestito o li terrareste per dare una possibilità in prima squadra? Visto che le partite sono tante, quindi molti giocatori dovranno girare per non affaticarsi troppo? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ovviamente dopo aver lasciato un mi piace, e un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, anche se siete iscritti, cliccate sulla campanella per ricevere sempre una notifica aggiornata, perché purtroppo YouTube funziona così, o farà con la campanella o c'è possibilità che il video neanche ti compaia sulla home, quindi più lo fate e meglio è. Un saluto e sempre comunque, Forza Roma! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie a tutti.